Una delle anomalie nostre è il pagamento in contanti, adesso non sto a darvi cifre, ma siamo enormemente spostati verso la carta moneta e non verso la carta di credito. Allora noi dobbiamo in qualche modo riportarci verso pagamenti con la carta di credito, anche piccoli pagamenti, è interessante perché sono aumentati recentemente anche i piccoli pagamenti con la carta di credito. Dobbiamo rendere quindi la carta di credito conveniente rispetto al contante, è inutile che noi poniamo dei rimedi drastici, limitiamo certo l'afflusso di contante perché i grandi pagamenti almeno non possono legalmente essere fatti contanti. E per il resto facciamo in modo che i piccoli pagamenti con la carta di credito siano convenienti rispetto al pagamento in contante, ad esempio che costi qualcosa tirare il denaro o pagare con la carta moneta. Professore, a proposito delle persone... Allora, io si...